Ha ribadito l'efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per contrastare i reati. Protagonista sul palco dell'auditorium di Morbegno, il comandante Alfa, per 40 anni carabiniere del gruppo di intervento speciale dell'arma, ora in congedo. Su invito dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Morbegno, guidata da Patrizio Gambetta, Alfa ha svelato i compiti del GIS impegnato a sventare atti terroristici, la cattura di latitanti, la liberazione di sequestrati e affrontando il tema degli attentati di matrice islamica ha evidenziato quanto la strategia d'azione interforze abbia permesso spesso di bloccare anzitempo l'azione di attentatori evitando nuove stragi. Il comandante ha quindi parlato della sua infanzia in Sicilia, del rapporto speciale con moglie e figli e dell'amore per la divisa indossata con orgoglio e senso del dovere. Alfa infine ha presentato al pubblico i suoi libri Io vivo nell'ombra e Cuore di rondine, oltre alla pubblicazione ormai prossima all'uscita Missioni segrete. Al pubblico ha riservato un appello, siate le nostre orecchie e i nostri occhi sul territorio, insieme il malaffare si contrasta meglio.